Grandi progetti per la Scuola Comunale di Musica di Gubbio, dove, oltre all'attività ordinaria, sta per partire scosse. Il corso di formazione per professionisti del mondo dello spettacolo, rivolti a occupati e disoccupati tra i 18 e i 65 anni, residenti in Umbria in possesso del diploma di maturità. Nel dettaglio, nella Scuola Eugubina, verrà sviluppato l'ambito della direzione di scena e della scrittura drammaturgica. È un progetto di formazione professionale, quindi rientra tutto e per tutto nella formazione professionale prevista dalla regione Umbria. Noi collaboriamo con ARPAL proprio per questo. È un progetto che viene, tra l'altro, riconosciuto e a titolo gratuito per i corsisti, che dovrebbe dare il via anche a una conoscenza nel campo della drammaturgia e nel campo anche di quello che è il direttore di scena, quindi di quello che succede dietro le quinte, sia in una proposizione live, ovviamente, ma anche in una proposizione di costruire creativamente delle storie che poi devono essere portate su di un palco. Come ad esempio un musical? Ad esempio un musical o un prodotto teatrale, sì. Questo percorso, diciamo, che spazierà tra un plot creato per o il teatro musicale oppure per il teatro di prosa. È una partenza per vedere quanta creatività poi può essere messa in gioco sotto questo punto di vista. Come professionisti abbiamo per l'asse direttore di palco Alberto Sebastian Ricci da Forlì, viene da Forlì, poi abbiamo per il plot drammaturgico Elisa Neri, per la traduzione delle storie in testi Lucia Di Bella e per quanto riguarda la creazione delle musiche, che nell'eventualità si parli di musical, Marco Rosati. I progetti della scuola non finiscono, sono pronti a partire tante nuove iniziative. Sono in cantiere una serie di progetti molto importanti, posso citarne alcuni, quelli che diciamo sono più imminenti, che è l'istituzione intanto di una classe di musica antica, che ovviamente nella nostra città penso che sia quasi d'obbligo. Poi avremo una serie di progetti che abbiamo cominciato, intanto diciamo le proposizioni della scuola verso l'esterno, come la riorganizzazione di seminari e di masterclass, come già abbiamo fatto con Peter Eskin, con grande batterista internazionale. Continueremo con l'attività anche estiva, che è stata già siglata l'anno scorso in collaborazione con gli amici della musica, con altri festival. Una serie di progetti anche con le scuole, che promuoveremo tra poco per tutte le scuole di ordine e grado. Le altre iniziative che sono state già prima presentate, ma che vanno nella direzione di ampliare l'offerta formativa che dà la scuola comunale di musica.